Hi everyone, I am Massimo Meregalli, Movistar Yamaha, MotoGP Tindirect. And this is the 2016 Yamaha YZR M1. Strong bikes need strong suppliers. And this is why we are here, to introduce one of our official sponsors and technical partners. Ciao, sono Gaetano Bergami, fondatore e titolare della BMC Filtri. Sono qui dietro alla MotoGP 2016 e presso il reparto coste della Yamaha, con la quale collaboriamo dal 2005 e abbiamo vinto insieme sei titoli mondiali della MotoGP. La BMC è stata fondata nel 1995 fornendo il team di Formula 1. Oggi ha tre sedi oltre l'Italia, una in Germania, una in Cina e una in India. Negli ultimi anni la BMC ha vinto sei titoli nella MotoGP, quattro nel mondiale Superbike, 21 titoli in Formula 1 e 14 vittorie alla 24 ore di Le Mans. La nostra tecnologia permette di ottenere la miglior filtrazione possibile, che è un compromesso tra le performance e l'effetto filtrante. Il materiale che usiamo noi è un cotone oleato, il quale intrappola le particelle a partire da 7 micron, permettendo così al motore sia di avere il massimo dell'aspirazione, filtrando anche le particelle piccole. Il nostro scopo è quello di continuare a fornire team vincenti. Fate la scelta vincente, anche voi per la vostra moto e la vostra auto usate il filtro BMC. continuate a seguire noi durante la season e voglio prendere questa occasione di ringraziare BMC per il suo supporto vincente. Ciao!